Musica Mercoledì 24 giugno in primo piano nel TGL News la decisione del Comitato per l'Ordine la Sicurezza che si è riunito questa mattina in prefettura, la fiera di Sant'Antonino il 4 luglio non si farà, mancano le condizioni minime di sicurezza nonostante il Comune avesse presentato una proposta che vedeva meno banchi e più distanziati, accessi contingentati, la decisione così dice un comunicato della prefettura è stata condivisa e concordata appunto di rinviare l'appuntamento più atteso dai piacentini al 2021 naturalmente sperando che il mondo intero non sia più alle prese con l'emergenza coronavirus, quel giorno però si terrà comunque la celebrazione nella Basilica di Sant'Antonino del patrono della città di Piacenza, città di Piacenza che riceverà l'Antonino d'Oro 2020, lo ha deciso questa mattina appunto la Basilica Don Basini il responsabile della Basilica di Sant'Antonino, atto di gratitudine per chi ha combattuto contro il Covid, queste le motivazioni dunque per la prima volta va a un, non a un singolo l'Antonino d'Oro ma va a tutta una comunità che è quella della città di Piacenza proseguiamo naturalmente sono tante le notizie in tema di Covid, ce n'è una positiva dimesso l'ultimo paziente in quarantena dalla base militare di San Polo dove appunto erano stati spostati destinati coloro che dovevano appunto svolgere periodo di quarantena perché risultati positivi e poi successivamente guariti al virus, la struttura però resta attrezzata nel caso arrivi una nuova ondata naturalmente nessuno se lo augura e poi tra le tante conseguenze difficili, negative del Covid anche il fatto ad esempio che manchino molti volontari all'Auser, il grido d'aiuto del Presidente perché si rischia di dover rallentare addirittura annullare diverse attività. tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e come sempre nel TGL delle 19.30